e giusto a chi mi va andare a chiedere per chiedere un miracolo da crescere a me? sei scena pazzo è convinto proprio perchè è deciso una brava persona è sempre faticata, onesta, tutte cose non può essere che mi hanno mandato questo castigo a me e aspetta un miracolo da crescere a me eh beh, chi l'ha aspetta un miracolo a te che fatti c'era? tu sei più scema o un miracolo da crescere a me da crescere a me e perchè i tuoi miracoli che stai cì sono sempre gente che non ci vedeva e poi ci ha visto però lui ci getta nè non camminava e poi camminava i miei cosci hai mai visto qualcuno che non teneva una cosa e lei è cresciuta? eh, ma quello proprio perchè un miracolo è così difficile si sta concentrando perchè un miracolo è difficile, è più difficile ma stai, un miracolo è difficile perchè se un miracolo è difficile o un miracolo fa? i cento punti e i cinquanta punti sta giocando a... cioè poi se un miracolo è un miracolo un miracolo è uguale a tutti perchè allora la gente quando succede un miracolo io raccomando una cosa che succede, mi raccomando un miracolo Kinder alle ragione mi raccomando un miracolo e ma sta unicono per questo che succede una cosa e' un miracolo perchè n' autun miracoli e le cinquanta punti no no.. ci sta un miracolo겠죠 e un miracolo che è buono mi chiede che stava assicurazione un miracolo e lo stava accendo il miracolo no 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 ci stava accendo un miracolo e un miracolo ma inferiore se ti succede tutta una fuolla e dice un miracolo c'è un miracolo ye un miracolo solamente Grazie a tutti.